Buongiorno a tutti e bentornati su The Italian Maker. Nel video di oggi vogliamo parlarvi di sempre un prodotto inerente all'ambito foto e video, ma ha un action cam. Non è GoPro, come tutti vi aspettate, e non è neanche DJI, perché non ce l'abbiamo ancora, forse un giorno la proveremo. Se DJI vede il nostro video e vuole inviarci la nuova Osmo 4, noi siamo qui, pronti a riceverla. Volevamo provare però qualcosa di diverso per aumentare la nostra creatività e per provare nuove tecnologie. E quindi abbiamo deciso di comprare un prodotto della Insta360, ovvero la... X3, la nuova macchina... No, è uscita già da un pochino, ma... La nuova macchina a 360 gradi in chiave action cam di Insta360, appunto. Per chi non la conosce, tutti i video che vedete su Instagram con l'effetto del mondo dall'alto che sembra una palla sono fatti con questa macchinetta qui. Come funziona? Ha due obiettivi, uno davanti e uno dietro, come potete vedere, entrambi con una focale di 180 gradi. E poi, via software, viene fuse le due immagini facendo scomparire il corpo. La cosa fighissima è che via software, anche se gli montiamo un bastone, come questo selfie stick, tra l'altro è di 1,20 m, quindi bello lungo, e fate una ripresa, il bastone sparirà. Quindi sembra che la ripresa avvenga dal nulla, da un drone che vola intorno a voi, perché via software, appunto, sparisce ed è bellissimo. Questa macchinetta pesa 200 grammi, ha una batteria interna molto capiente, da 1860 mAh, e permette di girare un paio d'ore anche di filmato, niente male. All'interno ha una scheda microSD, quelle piccoline, ha una porta USB-C per ricaricarla, scaricare i file sul computer, o utilizzarla come webcam. E la cosa fighissima è che si può mettere in mezzo a una stanza, ad esempio così, e può filmare sia me che il nostro interlocutore, e avere il doppio campo con una webcam, ed è comodissimo. Ha un sacco di microfoni da ogni lato che permettono di catturare l'audio a 360 gradi, così come l'immagine, e a differenza della sorella precedente X2, che aveva uno schermino piccolo, hanno messo uno schermone molto grosso, touch, di una bellissima risoluzione, altissima velocità, si vede benissimo. Due tasti per cambiare tipologia di lente, adesso vi spiego, e per iniziare la ripresa. Oltre ai tasti laterali per accenderla, o andare in funzioni rapide. Ha due sensori da mezzo pollice l'uno, 36 megapixel l'uno, per un totale di 72 megapixel. Quindi quando noi scattiamo una foto, ad esempio sul bastone, riscatterà una panoramica di tutto quello che c'è intorno a noi, fuse insieme via software, da 72 megapixel. Video. Può girare video in 5,3k a 30 frame per secondo. E la figata è appunto che, a differenza di GoPro, il mio grosso limite era questo. Vado a sciare, vado in bici, faccio un tracking, mi porto la GoPro, faccio la ripresa dell'azione, ma devo sempre pensare l'inquadratura. Sulla bici la monto in un punto, ed è sempre lì, è sempre la stessa inquadratura, trita e ritrita, vista e super vista. O la metto sul manubrio che inquadra la ruota, o inquadra la mia faccia, ma è sempre quello. E devo sempre stare a pensare all'inquadratura. La cosa bellissima di questa macchina è che ci pensate dopo. Ha un software che si usa su computer o su cellulare, si connette via Wi-Fi al cellulare, e la connessione è super stabile, super veloce, affidabilissima, si connette sempre un altro mondo rispetto a GoPro. Cioè l'applicazione Insta per il cellulare è una bomba, è bellissima, permette di fare montaggi in camera, permette di fare un sacco di cose. Adesso ve la mostro. Non dovete pensare all'inquadratura, quindi io la metto lì, non è importante se la metto così, 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 così. La monto dove devo montarla, clicco REC e poi mi diverto. Faccio l'azione, scio, vado in bici, faccio quello che voglio fare e dopo posso inquadrare ovunque, perché avendo 5,3k di risoluzione mi permette di croppare e concentrarmi su un soggetto, di inquadrare, ad esempio ce l'ho messa sul manubrio e posso inquadrare la strada e nella stessa inquadratura inquadrare la mia faccia senza doverla smontare e cambiare. Posso inquadrare dall'alto la bici, posso montarla dietro e col fatto che sparisce il bastone sembra un effetto drone, dà un sacco di libertà creativa, è veramente tanto divertente. L'unico aspetto negativo è che richiede uno smartphone abbastanza performante o un computer molto performante per gestire i file dopo, perché tutto il tempo che risparmiate in fase di registrazione, quando cliccate REC senza pensare a niente, lo perdete poi a casa, al computer, a dover impazzire, a pensare le riprese, come gira, come non gira, eccetera. Però vi assicuro, compratela, provatela, è divertentissima, dà veramente tantissime libertà creative. Può fare foto in HDR, video in HDR, timelapse, bullet time, starlapse, ha un sacco di funzioni integrate super fighe, bullet time, probabilmente la fate girare intorno alla testa, slow motion, e riprende tutto intorno a voi con la vostra faccia. Un'altra cosa bellissima è la funzione tracking, ovvero io mettiamola, metto lontana, qua, io entro nella scena qua, esco qua, senza doverla muovere, sempre via software, perché ha tanta risoluzione, lui ha un tracking automatico, mi dice, seleziona una persona, seleziono me, mi traccia, e mi segue nel video, stringendo su di me, e si sposta, come se avessi un movimento di camera su una testa video fluida, è fuori di testa, finché non la vedete, non capite. Adesso vi faccio vedere l'applicazione per smartphone, e poi l'applicazione a computer, e un po' di riprese che ho fatto questa estate, quando l'ho provata, per divertirmi un attimo. Dimenticavo di dirvi, è anche impermeabile fino a 10 metri, così, senza case né niente, quindi potete prenderla, buttarla sott'acqua, fare riprese incredibili anche sott'acqua. Stanno un po' attenti all'inclinazione, mi sono accorto che questo stitching si chiama, cioè la fusione delle due lenti, in aria è perfetta, sott'acqua ha un po' di difficoltà, infatti, sott'acqua consiglio di utilizzare la lente singola, perché cliccando i pulsanti posso anche decidere di usare solo la lente interna o solo la lente esterna, e a quel punto è una specie di GoPro, quindi l'angolo di campo diventa 177 gradi, sempre molto ampio, non è più 180, e inquadro tutto quello che voglio, volendo posso anche usarla linear senza fare la distorsione e andare a zoomare. Quindi sott'acqua, se volete fare riprese con lo stitching che sparisce il bastone, vi consiglio di comprare il case apposta che trovate sul sito di Insta, che è studiato per ridurre i riflessi dell'acqua, eccetera, eccetera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci qua. Come potete vedere ci stiamo inquadrando, ma posso ruotare e vedere tutto quello che c'è nella stanza. foto, video, HDR, time lapse, time shift, bullet time, loop recording, star lapse, grafica di foto, foto intervallate, insomma abbiamo un sacco di modalità e queste sono soltanto quelle a 360 gradi, quindi che sfruttano le due lenti. Se no possiamo andare ad obiettivo singolo, abbiamo modalità selfie, tutte le altre macchie appunto vanno a lente singola. Poi, una volta che sono modalità video, posso, come vedete, poter scegliere la risoluzione. Posso andare a 3K, a 100, a 4K, a 60, a 5K, a 30. Su 10 ore di qui ho le impostazioni, posso usare video standard o log, figata, posso firmare anche il log, quindi se la devo integrare con altre macchine molto comodo, effetto vivido, oppure posso regolare l'esposizione e il bilanciamento del bianco e così via. Ho lavorato tutto in manuale, quindi ho anche ISO, diaframi e tutto in manuale. Ma passiamo all'applicazione per smartphone, quindi basta accenderla, apri l'applicazione Insta360, cliccare su connetti alla fotocamera e lui in pochi secondi si connette. La connessione è avvenuta con successo, ora andando in album posso vedere tutti i file e la cosa bella rispetto a GoPro che non ho la necessità di importarli dentro alla libreria per poterci lavorare, ma sto lavorando direttamente dalla macchina. Chiaramente consuma più batteria, ma non devo avere la memoria dell'iPhone libera per poter lavorare i file. Prendiamo un esempio, un video, questo che è un video in modalità selfie, vedrete il bastone sparisce e non lo si vede, questo è in modalità lente singola. Invece ho una foto a 360 gradi, ad esempio vedete la foto, io posso ruotarla e fare, questo sono io, posso dezoomare fino ad avere il mondino o se no posso, il mondino anche al reverse, posso fare quello che voglio, però di base posso zoomare molto perché la risoluzione è tanta e inquadrare quello che mi interessa. Anche con un video, ad esempio, qua come potete vedere, l'ho messa sopra lo zaino e posso stringere, posso inquadrare quello che guardo io, posso inquadrare quello che avviene dietro di me, appunto avere questa ripresa un po' terza persona come se fosse un videogame, molto carino. Chiaramente dall'app posso ritagliare, decidere che in un punto è stretta qua e in un altro è largo così, in un altro è così, posso fare un po' quello che voglio. Posso da qui scegliere se avere 9 sedicesimi o 16 noni per l'app per YouTube. Come vedete, il funzionamento, per essere in diretta dalla macchina, quindi ripeto, non ho scaricato il video sul telefono, non è scattoso, cioè la connessione è stabilissima. Un'altra funzione molto bella è la funzione snap, ovvero uso il giroscopio del telefono per decidere l'inquadratura e rifilmo il video, quindi tengo premuto registra e ora io ruoto fisicamente l'iPhone e vado a inquadrare quello che mi interessa. Posso zoomare avanti, zoomare indietro. Quando lascio, viene creato un video con quello che ho rinquadrato, quindi ho utilizzato il mio iPhone come mirino dopo aver filmato. Secondo me questa cosa qui è formidabile, è veramente fantastica. Passiamo quindi all'app per computer, in questo caso stiamo usando per Mac, ma c'è anche per Windows che si chiama Insta360 Studio. Una volta aperta, chiede di importare i file. Allora, l'unica cosa da tenere a mente è che quando gira i video a 360 gradi crea più file con lo stesso nome, 10, 10, 11, 11, doppio file, perché sono un file per ogni singola lente che poi lui dovrà andare a montare, quindi ricordatevi sempre di importare entrambi i file con lo stesso nome. Apro, lui analizza, importa, carica i dati del giroscopio presenti all'interno dei metadati e poi come potete vedere vado a selezionare un video e posso col mouse trascinando ruotare e decidere 9, 16, 16, 9, 4, 3, 2, 35, 1 se voglio dargli un look più cinematografico con le bande nere. Teniamo esempio il 16, 9 che è quello che ci interessa a noi per YouTube. Posso andare a dezoomare fino a renderlo così e ruotare e inquadrare quello che mi va come potete vedere. Ok, in qualunque punto io poi posso cliccare questa cosa qui e vuol dire che lui qua blocca questa inquadratura, vado avanti nel video, mi rifermo, sposto l'inquadratura ad esempio così e clicco questo pulsante, quindi in questo punto ho questa inquadratura e vedete che lui ha fatto una transizione da qui a lì. quindi se torniamo indietro vedrò che da qui pa 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 ruota per andare al secondo punto di inquadratura richiesto. Molto, molto comodo. Posso anche selezionare ad esempio il tracking ovvero io seleziono su di me inizio il motoraggio e anche se io dovessi spostarmi a sinistra o a destra dell'inquadratura rimarrò sempre centrato in mezzo. Posso decidere fino a che punto tracciare, ad esempio ora mi interrompo torno indietro e vedete che qualunque cosa succede è bloccato su di me. Qua è presente anche la possibilità di modificare lo stitching nel caso non è perfetto o di calibrare il colore abbiamo color plaques che ci permette di pompare un po' più i contrasti acqua vision in caso di riprese subacquee l'audio non usa l'audio automatico oppure mette a fuoco sulla voce quindi riconosce in che punto siamo o riduzione del rumore e poi anche il tipo di stabilizzazione come vedete il video è molto molto stabile posso andare a togliere la stabilizzazione che ha e l'effetto come potete vedere è molto più traballante guadagna l'incisione l'immagine è più incisa ma perde molto di stabilità vedete appena l'attivo l'immagine è bloccata immobile posso anche mettere il blocco dell'orizzonte così se anche mi ruoto rimane fermo chiaramente una volta che ho fatto tutte le modifiche che voglio fare o posso tagliare ingrandire il punto che sto guardando fare una screenshot del punto selezionato o decidere che qua è la fine del video e qua è l'inizio del video insomma posso editare come voglio passo alla fase di esportazione quindi posso decidere la risoluzione a cui esportare vedete che ho fino al massimo di 5k di risoluzione io ho creato dei miei preset tipo 4k che è automaticamente la risoluzione normale posso avere un H265 un H264 un ProRes addirittura fantastico se voglio passare su Final Cut a montare ma anche 265 esporto e via andare e posso passare a questo punto su Final Cut fare l'elaborazione dell'inquadratura su Final Cut è un po' più macchinoso la cosa carina che mettiamo io adesso ho fatto questa inquadratura con questo col punto che diventa così ma voglio che questo stesso video vada anche su Instagram lo esporto in 16 noni seleziono 9 e 16 lo ritaglia e ho comunque gli stessi punti e lo stessa modifica può essere che necessita qualche aggiustamento perché chiaramente il campo è più stretto però adesso posso riesportare ce l'ho in verticale come vedete quindi in una singola elaborazione del file in termini di inquadratura e tagli posso esportarlo sia per Instagram che per YouTube questo secondo me è fantastico parliamo un po' dei contro allora come detto richiede hardware potente per fare l'elaborazione dell'immagine e tanto tempo per dedicarci al video un altro contro nel sensore è da mezzo pollice quindi in condizioni di bassa luminosità non va per niente bene all'inizio vedete che scara lo shutter speed quindi l'immagine diventa un po' più scattosa non molto fluida e quando è molto molto buio il rumore ISO è devastante quindi non va assolutamente bene per riprese in condizioni di scarsa luminosità per questo esiste una versione di questa macchina fatta in collaborazione con l'Aica tra l'altro con il sensore da un pollice sempre due lenti 360 gradi sensore da un pollice da 20 megapixel e quella lì è più adatta se volete il massimo live qualità video e foto anche in condizioni di bassa luminosità un altro aspetto negativo è la qualità video che mi sembrava buona vedendola sullo schermino lì è buona vedendola sul cellulare non sembra male quando vado poi a fare tutto l'elaborazione a computer e esportarla il file non mi sembra molto inciso non mi sembra un po' un po' bruttino è rilegata all'ambito social non ci farei dei lavori perché comunque la quota video non è altissima è molto comodo il fatto che lui registra un mega blocco quadratone come se fosse un 1-1 gigante e in post produzione posso deciderlo se tagliarlo in 16 noni per youtube o in 9 sedicesimi per instagram quindi non devo pensare tipo gopro la monto in orizzontale la monto in verticale a seconda dell'output social che mi interessa come per la inquadratura io pianto lì clicco e con la stessa clip posso tirarmi fuori sia il video per youtube sia il video per instagram quindi di aspetti positivi ne ha tanti però questa video secondo me è social non ci si può fare un lavoro insomma devo ringraziare 360video.it che è il venditore che me l'ha venduto il venditore autorizzato insta e ha dei prezzi più buoni rispetto a ebay amazon se siete interessati a comprarla da lui vi lascio il link per acquistarla qui sotto in descrizione risparmiate un po' di soldini che male non fa mai grazie per aver visto questo video commentate cosa ne pensate se anche voi ce l'avete o se volete curiosità informazioni su questa macchina non esitate a scriverci un saluto da The Italian Maker grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti